Aguriii! 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 Dai andiamo adesso! Ok! Lascia aberto! Aguriii! 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 Devi trarargli fuori la mezza eh! Aspetta dai! Aspetta aspetta facciamo prima l'altra! Ok! Vai vai! Non si sa dove posso andare! Bella accendina no? Perché non so dove può partire eh! Lo faccio io dai vecchio! Ok! Vai! Vai! Questo qui! Questo qui! Ok! 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 non mi immagini mi ha fatto il ciccio